buonasera ragazzi e benvenuti qui da Imola siamo appena arrivati abbiamo appena scaricato tutto e stiamo per andare in giro presso l'autodromo di Imola a piedi ragazzi a piedi no questi qua fanno alquanto male l'ho provato io l'anno scorso ma di quella curva lì io taglio sempre lì e l'acchiappo col piede sono fantastici è importante questo sale questa sale è una frega perciò mi piace non abbiamo mai fatto manca il mungiallo tutti si no no devo molto la c'è uno scollino e poi c'è la guba io ho prima dei 200 ragazzi non ascoltate queste brutte persone sono tutti pseudopiloti mancati o comunque dopo il primo chilometro e mezzo fatto a piedi cosa ne pensate il taxi va bene e invece il nostro grandissimo pilota rinorino che ne pensa con questa sigaretta in mano era pilota era pilota adesso non cavolo ma a piedi infatti le piste ormai a piedi le facciamo ora ci sta Gianluca col pilota oh ma ci abbiamo Gianluca il pilota mica gotica e lì Gio faccio vedere anche il bullone secondo me mi ha messo il bullone nella catena prima per sé il bullone paga non c'è il bullone paga ma non si guarda sempre già lui che sta solo lui a livelli filmati ho capito ma se sta davanti ma non sta davanti alla panza che è un casino ma è così lo escludiamo la immaginiamo e sappiamo come si sorpassa subito è un attimo a sorpassare la discesa mi pare di essere il cinese a roma la bandierina all'altro lato no seguitevi ragazzi dai facciamo una corsetta non siete capaci facciamo una corsetta Il problema è che si può frenare tranquillamente sotto al ponte, ma ti caghi addosso? Sì, ma là stai fermo, la curva quella si fa da fermo, quello è il problema. Ho capito, comunque è una curva a 90 gradi, forse pure qualcosa in più. Io lo sai perché sbaglio qua. Sì, più o meno qua si frena. Quello dritto, che se sbagli... Qua fregava una frega di gente l'anno scorso, perché la gente si impanicava. A 150 non si vede la curva. E comunque si ferrà a 150 qua, eh. Un accento. Sì? Mamma mia, oggi si è uscito una rotola! Salve, 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 salve! Tutto a posto? Cazzo di bella vita, oh! Ma guardala che fusto! Che fusto è tra noi! Questa mette sei fatto! Tu hai capito! Ma questo vlogger lo conosco! E che culo! Guarda, follie! Pia!